Per il campionato d'eccellenza il Montalto con Piemontese e Mazzei sbanca di Solacaporizzuto e allunga in vetta alla classifica in virtù del pari del Guardavalle a Roccella. Pari che costa il secondo posto a favore del Sersale che supera il fanalino di coda Siderno grazie alle reti di Scalise e Staliano. Corsara la Rossanese che vince di misuraggio Iatauro mentre non va oltre il pari la Virtus Soverato con la Palmese. Sentiamo in merito Mario Cannistrà che attacca alcuni organi di stampa. Diciamo che quest'anno come ormai tutti quanti sanno c'è stato un cambio di allenatore e chiaramente anche un cambio notevole di calciatori. Pensavamo che con gente di esperienza che avevamo messa all'interno della squadra potevamo immediatamente superare questo gap di amalgama però sicuramente siamo anche convinti che questo è un gruppo che per potersi esprimere al meglio ha bisogno di tempo perché sono giocatori che magari non hanno giocato insieme e c'è bisogno che il mister Salerno abbia dell'altro tempo. Tutto sommato non siamo in linea con i nostri programmi che erano quelli di arrivare quantomeno nei playoff però non siamo neanche molto distanti. Certo è che la battuta d'arresto di ieri perché io anche se abbiamo pareggiato la vedo come una battuta d'arresto ci ha un po' rallentato quelli che sono i nostri programmi e adesso dobbiamo dare un'occhiata a chi ci sta dietro sicuramente perché non vorrei che oltre al danno ci sia anche la beffa. Diciamo che siete stati penalizzati anche dal campo sportivo in quanto avete fatto cinque partite a Chiaravalle nel bene e nel male qualcuno l'avete vinto qualcuno l'avete persa però diciamo mancano le strutture per questa società. Adesso ci avete messo anche di voi di tasca come società per risolvere il campo sportivo di Soverato l'Erbetta ma c'è questa polemica in giro? Guarda comincio dall'inizio innanzitutto il fatto che abbiamo giocato fuori e devo ringraziare anche i paesi che ci hanno ospitato perché ci hanno veramente dato una grandissima ospitalità ma lo sapevamo perché c'erano in atto questi lavori che abbiamo fatto su autorizzazione dell'amministrazione comunale e quindi sapevamo di dover nei primi 4-5 incontri affrontare queste ulteriori trasferte chiamiamole anche se alcune ci sono andate molto bene altre un po' meno ma non penso che sia dovuta al campo dove abbiamo giocato ma probabilmente ad una nostra maggiore convinzione. Siamo ritornati al Baldassare Sinopoli anche lì stiamo avendo dei risultati altalenanti. Per quanto riguarda il discorso del Baldassare Sinopoli e delle polemiche onestamente le lascio a chi le fa perché ormai Soverato ci ha abituato a queste sterile polemiche dove chiaramente la gente si vuole sedere a tavola giustata senza mai partecipare senza mai chiedere quantomeno di poter partecipare e poi si nascondono dietro un vittimismo che onestamente non fa per noi. Noi abbiamo risposto con un comunicato ufficiale è il primo e l'ultimo. Non amiamo la polemica ma amiamo fare chiarezza e la verità su questo caso. Da parte nostra noi abbiamo sempre detto che bisognerebbe concedere il campo sportivo sia quando c'era all'epoca Mancini che adesso che ci sono stati veniti alla società più forte in campionato. Diciamo in questo momento alla Virtus Soverato per poi dare la possibilità anche agli altri giocare. Come mai questo sindaco, questo è solo lo sport, non si mettono l'animo in pace e dicono diamo il campo sportivo alla Virtus Soverato e se la vede lei? Io penso che i tempi siano maturi e penso che ci sia la disponibilità e la volontà da parte di questa nuova amministrazione. Dopo che per dieci anni abbiamo veramente fatto tantissime di quelle richieste, tante promesse poi mai mantenute, adesso invece dovremmo essere nelle condizioni di poter attuare questo piano di concessione. Devo dire che purtroppo i tempi in questo momento non sono ideali visto le vicessitudini che l'amministrazione sta attraversando e ritengo che sia giusto per tutta la cittadina di Soverato che prima si risolvano i problemi che tutti quanti sanno e che comunque si stanno piano piano risolvendo per poi attivarsi anche al discorso che va sull'impiantistica sportiva. Noi nel nostro stiamo cercando di valorizzare tutti gli spazi che ci sono all'interno della Baldassarra e Sinopoli, abbiamo fatto un campetto di servizio dove anche la prima squadra si allena. Certo che ci avviciniamo e ci siamo nel periodo delle piogge abbondanti dove noi i primi per risparmiare il campo ci alleniamo a lato, nel campetto più piccolo non vedo perché una categoria inferiore non possa fare questi stessi sacrifici. Certo per loro è diverso perché chiaramente avendolo trovato così non rischiano nulla, non rischia nessuna risorsa e quindi anche se il manto si rovina a loro nonno, poco importa. E a conclusione di questa intervista, questo comunicato stampa si va avanti così oppure si concluderà in modo pacifico e diciamo c'è bisogno di rispondere a qualcuno? Guarda, come ti dicevo prima e per quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto questo comunicato stampa per onore della chiarezza, primo e ultimo e non cadiamo in queste storie polemiche. Devo dire però siamo un attimino così un po' rimasti male perché qualche organo di stampa e qualche tv privata sullo diritto di replica ha un po' le idee confuse perché se io mando un comunicato stampa e non viene letto allora vorrà dire che si vuole fare polemica in modo unilaterale senza dare la possibilità di poter replicare su degli argomenti che comunque non sono degli argomenti così importanti, vogliono andare avanti così va bene per loro, noi non abbiamo nessun problema anche perché abbiamo tantissima visibilità e anche grazie alla vostra emittente e ad altri emittenti che non è il caso in questo momento di nominare, la visibilità ce l'abbiamo, ce l'abbiamo ben d'onde e non cadiamo in questi giochetti di personalismi e di rivalze che non ho assolutamente capito a che cosa, dove vogliono portare e a cosa si poggia. Il diritto di replica non è da parte nostra come dire ulteriormente richiesto, noi mandiamo dei comunicati stampa, se non vengono letti il problema non è il nostro.